Ciao! Finalmente, a grande richiesta, ho preparato il video in comparazione tra la prima maglia in versione player del Real Madrid per la stagione 2022-2023 e quella in versione fan. Come vedete le maglie sono molto simili, scopriremo poi nei prossimi passi del video quali sono le differenze. Ci vediamo dopo! Vi ricordo che quando si parla di versione player e versione fan non si sta descrivendo una versione vera e una versione falsa. Sono semplicemente delle versioni diverse della stessa maglia. La versione player o anche authentic o match è la versione usata dai calciatori durante la partita. La versione fan, replica o stadio è quella invece dedicata ai tifosi che vanno allo stadio, un po' più larga, un po' meno attillata e un po' più economica. Cosa ne pensate? Come avete visto le maglie sono simili. Da lontano peraltro è difficile vederle differente. Questa che vedete è la versione player e questa è la versione fan. Come vedete le differenze sono veramente minime. Io spero che il video vi sia piaciuto e spero di potervi rivedere presto su prossime recensioni. Ricordate di lasciare un like e di iscrivervi al canale. Ciao!